Ciao Paolo! Io ho quasi 30 anni fra queste settimane Lavoro a Lucodet e mi copro il ruolo di coordinatore e agitato di volontariato come qualcuno di voi avrà intuito dal momento che ci siamo sentiti Passo subito da un'altra cosa o va bene? Io ho messo a primo punto, sono timido Perfetto Al secondo punto sono goloso E al terzo punto sono spito sul crellone Mi fermo qua Per il testo, chi vuole la scheda è complicata Di sicuro il video sarà su youtube domani sera Perfetto 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 Grazie 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 Ricordo le anniversari, ma soprattutto ricordo che queste tassi erano di Sardegna e Settanta, che sono le categorie mondiali, la scuola di Sardegna, tutte cose ultimi, come dire, che fanno sì che come il titolo di Natto, su un mondo che è in passato da laurea, di laureati, da quasi 20 anni, e questo non è un buon lavoro. Ma poi si è nega, in coppia si fa, e il guaio fresco, fare il tappo, fare il tappo, fare il tappo, ed eccomi qua!